quaderni di serafino gubbio operatore il caso di vedere gli uomini ridursi peggio d'una bestia è dovuto accadere molto di frequente avaria nestorov eppure ella non li ha uccisi cacciatrice come voi siete cacciatore il beccaccino voi lo avete ucciso ella non ne ha ucciso nessuno uno solo per lei si è ucciso con le sue mani giorgio mirelli ma non per lei solamente la belva intanto che fa male per un bisogno della sua natura non è che si sappia infelice la nestorov come per tanti segni ci può argomentare è infelicissima non gode della sua malvagità pure con tanto calcolo e con tanta freddezza esercitata se dicesse apertamente questo che io penso di lei ai miei compagni operatori agli attori alle attrici della casa tutti sospetterebbero subito che mi sia anch'io innamorato della nestorov non mi curo di questo sospetto la nestorov ha per me come tutti i suoi compagni d'arte una versione quasi istintiva non la ricambi affatto perché con lei io non vivo se non quando sono al servizio della mia macchinetta e allora girando la manovella io sono quale debbo essere cioè perfettamente impassibile non posso ne odiare ne amare la nestorov come non posso odiare ne amare nessuno sono una mano che gira la manovella quando poi alla fine sono reintegrato cioè quando per me il supplizio d'essere soltanto una mano finisce e posso riacquistare tutto il mio corpo e meravigliarmi d'avere ancora sulle spalle una testa e riabbandonarmi a quello sciagurato superfluo che è pure in me e di cui per quasi tutto il giorno la mia professione mi condanna a esser privo allora allora gli affetti i ricordi che mi si ridestano dentro non sono tali certo che possano persuadermi ad amare questa donna fui amico di giorgio mirelli e tra le più care rimembranze della mia vita è la dolce casa di campagna presso sorrento ove ancora vivono e soffrono nonna rosa e la povera duccella io studio seguito a studiare perché questa è forse la mia più forte passione essa sostenne i miei sogni ed è il solo conforto che io mi abbia ora che essi sono finiti così miseramente studio dunque senza passione ma intensamente questa donna che seppur mostra di capire quello che fa e il perché lo fa non ha però in sé affatto quella sistemazione tranquilla di concetti d'affetti di diritti e di doveri d'opinioni ed abitudini che io odio negli altri ella non sa di certo che il male che può fare agli altri e lo fa ripeto per calcolo e con freddezza questo nella stima degli altri di tutti i sistemati la esclude da ogni scusa ma credo che non sappia darsene alcuna ella medesima del male che pur sa d'aver fatto ha in sé qualcosa questa donna che gli altri non riescono a comprendere perché bene non lo comprende neppure lei stessa si indovina però dalle violente espressioni che assume senza volerlo senza saperlo nelle parti che le sono assegnate e la sola le prende su serio e tanto più quanto più illogiche e strampalate grottescamente eroiche e contraddittorie e non c'è verso di tenerla in freno di farle attenuare la violenza di quelle espressioni manda a monte ella sola più pellicole che non tutti gli altri attori delle quattro compagnie prese insieme già esce dal campo ogni volta quando per caso non esce è così scomposta la sua azione è così stranamente alterata e contraffatta la sua figura che nella sala di prova quasi tutte le scene a cui ella ha preso parte risultano inaccessibili e da rifare qualunque altra attrice che non avesse goduto e non godesse quanto lei la benevolenza del magnanimo commentator Borgalli sarebbe stata già da un pezzo licenziata la 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 esclama invece in magnanimo commentatore senza inquietarsi vedendo sfilar sullo schermo della sala di prove quelle immagini da ossessa la 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 ma via via ma no ma com'è possibile oddio che orrore via 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 e se la piglia con Polacco e in generale con tutti i direttori di scena che orrore che orrore che orrore